Gli agricoltori del Metapontino chiedono la cancellazione del tributo imposto dal Consorzio di Bonifica a Bradone e Metaponto per la riscossione di crediti relativi alla fornitura dell'acqua per il 2010 e il 2012. Dal 2014 in poi, è stato spiegato in una conferenza stampa da Consigliere Michele Napoli, si tratterebbe di contributi aggiuntivi a carico dell'utenza per la copertura dei costi addebitati al Consorzio stesso dall'ente irrigazione. Si chiede un contributo straordinario che appare illogico, appare immotivato, appare irrazionale. La vicenda racchiude in sé una illegittimità della richiesta, si chiede agli agricoltori di contribuire pagando 150 euro a ettari per gli anni pregressi, non se ne comprende assolutamente la ragione, si corre il rischio di penalizzare, di mettere in ginocchio un comparto che già di per sé ha enormi problemi. Una soluzione indicata, quella di un intervento della Regione Basilicata sulla Puglia, qui cediamo l'acqua, per recuperare i crediti sulla fornitura che ammontano a circa 100 milioni di euro. Non si capisce come mai la Regione Basilicata rispetto a questo tema sia in una completa impasse. Bisognerebbe alzare la voce, far fino in fondo valere i diritti dei nostri agricoltori, se per davvero l'agricoltura è un comparto che a dire del Governatore della Regione Basilicata è per davvero strategico per lo sviluppo futuro della Basilicata. Grazie. Grazie. Grazie.